Musica A Music Hall quest'anno presenteremo una stagione con quasi 30 spettacoli, abbiamo raddoppiato le serate quindi ci saranno 80 repliche con veramente una varietà, il teatro delle varietà con una varietà anche di offerte ci sarà ovviamente il Novo Cirque, ci saranno le star da Giacomo Poretti e Paolo Endel a Greg di Lillo e Greg ci saranno spettacoli musicali e anche danzanti e ci saranno serate di stand up comedian cioè abbiamo cercato di interpretare al meglio ancora una volta la parola musical cioè il varietà, il teatro con le lampadine, il teatro dove va uno per divertirsi in maniera intelligente per sognare, per veramente evadere, quindi questa stagione sarà sicuramente meglio di quella dell'anno scorso Il Music Hall che esiste solo Torino, quindi Torino è l'unica città d'Italia che ha un teatro di music hall e di varietà siamo molto orgogliosi e sta andando bene, certo, ovviamente è un teatro quindi basiamo molto la nostra forza sulla vendita dei biglietti, degli abbonamenti, sulla frequenza e noi cerchiamo non solo di dare una possibilità alle persone di una certa età che si ricordano del teatro di varietà ma anche ai giovani perché ci sono degli sconti per gli under 35 incredibili sia nell'abbonamento che nei biglietti, certo che quando uno viene al Music Hall una volta poi ci ritorna il problema è farli venire una prima volta e rimangono innamorati del luogo Naturo lo slogan è abbonati alla follia Abbonati alla follia è per chi è già stato, è un abbonati alla follia perché del teatro il film è la meraviglia, come dicevamo a Chiavelli Grazie Grazie